buongiorno ragazzi buongiorno siamo finalmente tornati sul canale dopo ben quasi sei mesi ragazzi abbiamo preso una piccola pausa sei stato in feria mi sono sposato nel mentre ecco per farvi un piccolo recap abbiamo fatto nuovi progetti queste due brutte facce sono entrate nell'amministrativo brutte soprattutto la mattina presto la mattina con loro qua sì anche perché sono le 7 ma dove ci troviamo ragazzi lo dico io siamo a finale ligure che bel meteo come sempre la fortuna ci assiste sempre ormai da anni però c'è una parvenza di sole quindi adesso andremo dai nostri amici di Evolve Shop a trovare il nostro carissimo amico Giorgio Santa Cruz ci farà da guida insieme ai suoi colleghi a Tiger e tutta la combricola del negozio ci porterà sui più famosi sentieri più famosi trails di finale ligure ci farà divertire anche se il tempo non promette bene ci troveremo sicuramente in una compagnia numerosa siamo 20 persone oggi ci divertiremo un casino anche se immersi nel fango l'importante è stare insieme è l'importante è divertirsi e non cadere e non cadere non cadere blador dai blador dai piccola città sa che oggi sarà uno slipperona se andiamo a fare colazione poi andiamo a trovarvi e ve li salutiamo a dopo ciao ciao prima furgonata della giornata sotto l'acqua sotto l'acqua la fortuna è sempre con noi esatto colpa di Alex Alex colpa di Alex che ne pensi questa giornata sotto l'acqua allora penso che penso che è colpa di Abo Abo è sempre a lui Abo Abo senza le furca come vai oggi però ha il motore è il motore è vero ma Silvi tutto bene tutto bene pronto per questa giornata è sotto l'acqua è bellissimo oggi non piove ci siamo bagnati e fortunati cosa? una combi una combi sei abituato ad essere bagnato si sei pisciato a dolce che stanotte no? certo stanotte vengo a pisciare a dolce vieni te buona dai stanotte dormi te con vlad si vlad non ha mai russato stanotte siamo siete tutti pronti? io capo la carta vlad c'è carico? la molla figa guarda c'è cosa vuoi? aspetta che vado là questa figa vai vai ok sono strago un più io dove c'è? dove c'è? devo sgonfiare le gomme figa c'è sulle gomme tipo a 18 atmosfere c'è 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 ok capito qua dov'è c'è 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 ancora c'è c'è buona possiamo non voglio te ripedalare ne? è un bip continuo vai che sei veloce bellissimo molto che compressione è tutto a posto è il figlio sto spaccando la pianta ostia ho fatto male in modo serio posso aumentare la barba mia che cade hai un saluto Giorgione te ne hai fatto uno di meno non c'entra con la cucchia la cucchia la cucchia sono pronte sono pronte le costine sono pronte le costine non abbiamo preso le storie no dai è una storia diventerà base è nato Ramon perché faccio finta di pedalare fai finta fino adesso hai spinta guarda che branco di bikers libidinosi questa roba foto eh eh è una storia è una storia pensavo che era finita è una storia vai Ramon a me non sembra bravo bravissimo vai 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 che vi riprendo andi vai 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 ciao zio è così si dov'è il culo che hai mi piace ti sentivo quando canta mi eccita bello marrone dai dai sei te ahahah 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 coglione figa easy ma è Tosana di sicuro cado di sicuro cado di sicuro n Per chi si sente proprio stanco 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 e preferisce andare al ristorante e poi dopo pranzo ricominciare con tutte le forze c'è la strada. Io preferisco quelle cose qua che è... Ecco, sei stato dietro al boss? Sì, è incollato, è incollato, se vuoi andare vai, io sono tranquillo. È caldo, è caldo, è caldo. Guarda che non fai come ho fatto il concordo. Giorgio dai un po' di spettacolo qua. No, tagli alla Vlad. Vlad? Buono? Voi, lì, lì. Voi, lì! Voi, lì! Voi, lì, lì! Voi! si che si è bagnato qua si che anche io si ando così dopo come è andato Agnari? la little champerie mani devastate come vanno questi camuni tiger? sono una manica di schiappe di la verità l'importante è divertirsi non si nasconde siete una manica di schiappe ci sta su soprattutto Evolve Shop pronti per il day 2? day 2 che negozietto ragazzi come va la costina? costina al forno sempre buona sempre buona oggi si farà da bike shuttle perchè ci porta a spalle contattatemi se volete mi sembra al minimo paulino tan 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 Giorgione sei pronto per venire con noi Giorgione? pronti prontissimi nel fango ci farà mangiare la polvere nel fango eeeh Bilo 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 eeeh vai Giorgione avanti avanti Pesana dai merda dai dai Pauloz vai Vlad che paghi da bere dopo metano vai che è tutta discesa vai seghe grande Silvi bravo mandata ragazzi mandata spaziale meglio di così non si poteva fare aspettiamo in valle camonica certo che sì meglio di così non si poteva fare spingere alla grande io che non sei secco giusto io sono secco lui non io non c'è più di l'altra io non c'è più di l'altra io non c'è più di l'altra perché la mia c'è più di l'altra ma per fortuna non c'è più non c'è più di l'altra non c'è più di l'altra non c'è più di l'altra giro finito cotti straccotti cotti come i prosciutti io sono K1 ragazzi gli H uomini ammetto che l'ultima parte ero spinta ero morto però tanta roba come è andato al giro? bello 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 che t'ha? è stato bello? hai guanti? mandato gli H uomini gli H uomini modalità trekking parliamo seriamente lui voleva fare di H trans come è andata? bene uomini prossima volta donne perché è bene chiaro non possiamo farci affrontare così non possiamo farci affrontare così te come è andata di H costine? è andata benissimo sono stato molto più veloce di voi infatti sono arrivato mi sono già cambiato si è già lavato sono già digerito si è digerito anche la cena del 92 che avevo fatto ammazza quindi va bene un grazie ai ragazzi di Evolve che adesso andiamo a salutare grandi caburi ci vediamo alla prossima bello 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 come è andata Gay Pride? tutto bene tutto bene quello che finisce bene voi com'è andata? tutto a posto vici a posto vici a posto la jettina si è comportata bene chi la guida un po' meno si ma il Pauli come è andata? benissimo stupendo tra bene bello eh bellissimo quando andiamo via noi è arrivato anche un bel tempo è un segno che noi non dobbiamo più venire qua ragazzi la sfiga ci assiste sempre però bello 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 bene ci vediamo alla prossima e ragazzi mi raccomando passate oltre che a Evolve da Valcamonica on bike troverete anche questa prossimamente guardate come gli dona ciao ci vediamo alla prossima ciao come sempre il numero uno il Tosa numero uno gli ultimi la pista più bella l'ultima che abbiamo fatto il D-H la pista più bella è quella di adesso che andiamo a casa che è fisico io e Alex lo sogniamo un fisico così magari quando arriveremo a sua età asciutti l'importante è riagarlo ciao ragazzi allora come è andata di tutto come sempre bellissimo numeri uno Evolve numero uno di finale ragazzi se volete bike scattolare venite con loro grazie ragazzi grazie di tutto speriamo che vi siete divertiti e alla prossima sempre grazie come sempre per ripagare le furgonate di finale lì esatto questo è stato caro questo weekend Alex hai due euro sto pulendo bene pulire bene macchina viradiano vieni zinegro zinegro zinegro